Buon salve a tutti, io sono Roberta e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di qualcosa di molto molto particolare e complicato da spiegare, ovvero la pop culture magic, che non è complicata perché ci sono tantissime regole da seguire, ma è complicata proprio perché non ce ne sono in pratica. Ma iniziamo dal principio, ovvero definendo cosa voglia dire questo termine. Pop culture magic è una terminologia molto nuova per andare a definire una pratica magica che si basa e affonda le proprie radici nella cultura popolare del momento. Quindi anche le streghe del 1500 praticavano pop culture magic, ma questa terminologia nello specifico viene utilizzata solo per il momento moderno. Quindi una streghe del 1500 che utilizza i tarocchi non sarà una pop culture witch, bensì una persona che fa il proprio grimorio sul suo computer lo potrebbe essere. Quello che distingue una pop culture witch da una strega normale è il fatto che per loro il mondo materiale sia scollegato dalla loro pratica essenzialmente. Non nel senso che non esiste o non è importante a livello fisico, ma nel senso che concepiscono tutti come un sistema di energie da poter utilizzare in maniera volontaria e libera. Quindi per esempio il rosmarino non è una pianta di protezione e purificazione per le pop culture witch, bensì va a prendere ad assumere un significato in base al momento ai sentimenti della persona. Quello che tu pensi quell'erba sia, allora in quel momento lo sarà. Ma la stregoneria pop culture non si ferma qui e anzi ha tantissime sfumature di significato interne tanto da essere infinite. Ma per parlare in questo video noi faremo due grosse distinzioni, ovvero chi crede in un culto pagano, in un panteon pagano ma pratica stregoneria pop culture e chi invece ha un completo culto pop culture. Ovviamente partiamo dal primo, che è molto più semplice da capire in realtà. Una persona crede in un culto pagano, come per esempio quello ellenico, greco, piuttosto che quello norreno, quindi prega le divinità di quel panteon pagano. Quindi nel primo caso tipo Zeus, Hera e nel secondo caso Odino e Loki. Questa persona però, in quanto pop culture witch, non aderisce ai metodi di offerta e di culto tradizionali, quindi determinati templi, determinati metodologie, alcuni significati di base, bensì si basa completamente sul proprio istinto per fare quello che si deve. E a volte questo si trasmette anche non utilizzando alcuna cosa fisica, ma semplicemente delle energie. Una cosa che ho visto di recente su TikTok, che mi ha fatto sorridere e ho discusso lì, è il fatto che alcune persone facciano delle offerte alle proprie divinità pagane, però su Minecraft. Si creano un altare, mettono su degli oggetti virtuali su Minecraft, li offrono e poi così via. Costruiscono delle statue, le proprie divinità su Minecraft e per loro quello è il loro modo di rendere grazie alle divinità. Non fisicamente, utilizzando delle erbe, dei sacrifici, quindi delle offerte fisiche, bensì virtuali. Secondo loro infatti, essendo un computer e un programma solo parti di energia che funzionano, ha lo stesso valore di sacrificare delle erbe che contengono una certa energia. Per loro è più importante la volontà che plasma la materia, l'intenzione con cui tu fai un gesto e non il mezzo di per sé. In questo caso però la strega non può definirsi pagana, perché sebbene creda in un pantheon pagano, in realtà il suo metodo di venerare queste divinità è neopagano, moderno, quindi è una forma di neopaganesimo, rivisitazione dell'antichità in chiave moderna. Il secondo gruppo di persone dove invece l'intero culto e pop culture rappresentano qualcosa di per me molto difficile da spiegare, perché io stessa non condivido, pur credendo che abbiano una genialità di fondo, e cercherò di spiegarvi perché in tutto il discorso. Quando parliamo di culti pop culture intendiamo per esempio il culto dei Jedi di Star Wars, oppure le persone che pregano i Pokémon piuttosto che le Winx. Per loro non sono solo frutti di fantasia, ma per loro sono vere e proprie divinità e c'è un metodo per pregarle e ottenere qualcosa da loro, per lavorare con queste divinità. Ed è ovvio sorridere al fatto che qualcuno offra dei girasoli a stella delle Winx, però secondo loro, in pratica cerco di spiegavolo in maniera molto Terra Terra, essendo l'universo un multiverso con tantissime realtà, ci deve essere un universo in cui esiste stella e le varie Winx. Quindi per loro il cartonimato delle Winx è una trasposizione di quell'universo e quindi non è stupido offrire queste cose perché stella esiste davvero da qualche parte nell'universo. Quindi qualsiasi personaggio di libri, serie tv, fumetti è potenzialmente una divinità per loro. E alcuni, come dicevo già nell'altro esempio, utilizzano dei metodi moderni per rendere grazie a queste divinità, mentre altri utilizzano proprio dei metodi classici per renderli grazie, come per esempio i girasoli per stella, piuttosto che il quarzo rosa per Sylveon. Qual è però la problematica e la grande critica che viene fatta a questo tipo di stregoneria? Nel primo caso, cioè le persone che hanno un panteon pagano ma lo sviluppano in chiave moderna, il problema è il fatto che c'è una tradizione antica che ti suggerisce cosa fare. Inventartelo di sana pianta è una forma di disrispetto verso le divinità e il culto stesso e i tuoi antenati. Inoltre molto spesso il fatto che si possa fare quello che si vuole viene preso dalle pop culture witch come una scusante per non studiare quello che le circonda, quindi in pratica pregare Apollo senza sapere chi sia. Dall'altra parte invece le streghe che venerano i pokemon piuttosto che altro, la critica che viene fatta è che il loro grado di realtà è questo, siamo in questo universo, quindi la percezione che tu hai di quello che ti circonda, di quello che vai a leggere è distorta e dovresti fare un lavoro su te stesso per capire, perché tu hai bisogno di idealizzare un personaggio che a te piace molto in divinità. Certo il discorso dei multiversi funziona ma a livello psicologico tu come stai? Insomma il mondo della pop culture magic è molto complesso sia da sviluppare nella persona stessa sia da capire, per questo non c'è un modo giusto e sbagliato di intenderlo e le opinioni possono essere solo tali, alla fin fine nessuno di noi è la verità quindi non si può dire che sbaglino ma non si può dire nemmeno che stiano facendo la cosa giusta, però siccome noi viviamo sui social e molto spesso queste cose saltano fuori secondo me era giusto parlarne in un video per poter iniziare un dialogo su questa cosa, quindi di certo questo non vuole essere un video guida come invece molti pensano su come fare pop culture magic ma semplicemente un video che punta a farvi riflettere e a cercare di farvi dare delle risposte alle domande che voi stessi vi siete posti. Prossimamente parleremo probabilmente di fate e anche di magia del caos se mi viene il tempo. Inoltre voglio avvisarvi che io sto per partire per la Sardegna quindi nonostante gli esami io poi partirò subito lasciando dei video già pre-registrati ovviamente per consumare contenuti sul canale. Tranquilli non vi lascio soli. Ma per oggi il video finisce qua, io vi ringrazio come al solito per tutto il supporto e il sopporto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao bimbi belli! Nia! Fon! Nia! 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 Grazie.